buonasera sono angela fazio fiduciaria del fiat 500 club italia coordinamento di sera stretta quest'anno ci siamo organizzati per portare gioia allegria e regali ai bambini con esigenze speciali e questa sera 31 dicembre ci troviamo nella bellissima città di soveria mannelli tutti pronti per la consegna dei regali voglio ringraziare il sindaco gli assessori vigili e liberi punto tv per l'accoglienza e la disponibilità dimostrata il 22 dicembre siamo stati presenti a girifalco con l'associazione anget sicilia associazione d'arma nazionale genieri trasmettitori con sede a girifalco capitanata dal presidente vicario tenente gaetano faga e la consigliera anget stella mezzatesta che opera da anni nel settore sociale è stato bello vedere tanta allegria e amore per le strade del paese tante emozioni negli occhi degli adulti per noi tutti è stata una grande soddisfazione portare tanta gioia e allegria a questi bellissimi bimbi concludo ringraziando fiat 500 club italia che ci permette di realizzare queste belle iniziative è un grazie particolare a un nostro carissimo amico anonimo che ci ha sponsorizzato per comprare i regali grazie e auguri di buon anno dal coordinamento di sera stretta